...tardi per scendere. Prossima fermata, stazione di Rosco Street e Alex. La stazione era avvolta dall'oscurità. Alex sembrava un fantasma di cui si era perso ogni traccia. Dovevo trovarlo in fretta. La stazione di Rosco Street era impregnata di odori di morte. Dovevo trovare Alex e farlo in fretta. Bottinole, mi avrebbero fatto sentire meglio. Non era Jack che doveva occuparsene. I nuovi amici sembravano... E tu! Eh sì, è proprio stecchito. Ehi ragazzi! Ragazzi! Ehi ragazzi! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. È la rapida più rischiosa della storia, ma la posta vale la candela. Il cancello era chiuso. Dovevo trovare un altro modo per raggiungere il tunnel. Mi hai salvato. Cosa sta succedendo? Massacro! Questi assassini sono comparsi da nulla, ci serve aiuto. Potremmo utilizzare il telefono nella centrale di sopra, puoi portarmici. Certo, buona idea. Seguimi. In tutta onestà, non ho il coraggio di raggiungere la centrale senza di te e la tua pistola.